Un incidente spaventoso che ha visto un uomo sui 40 anni riportare ferite molto gravi, tanto da richiedere al medico del SUEM prontamente accorso di intubarlo sul posto e di trasportarlo di corsa al pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo in codice rosso. È accaduto verso le 19 di sabato 5 marzo sulla regionale che da Rovigo conduce a Villadose tra le due grandi rotatorie. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli, ma secondo le prime indicazioni la Jeep dell'uomo avrebbe improvvisamente sbandato, andando a collidere contro due platani riportando danni devastanti. Il ferito è rimasto incastrato all'interno della vettura ed è stato determinante l'intervento dei vigili del fuoco accorsi con la consueta celerità e tutta la loro professionalità per estrarlo ed affidarlo alle cure di medico e soccorritori. Completamente bloccata la strada per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rilievo affidate ai carabinieri.